Antonio Montuoro, consigliere regionale per Fratelli d'Italia, siamo qui alla Mezzia per la presentazione della riforma della giustizia. Sì, una riforma necessaria dove il nostro sistema giudiziario ne ha assolutamente bisogno. Oggi avremo l'intervento di diverse figure molto autorevoli ma soprattutto ci sarà la presenza del sottosegretario alla giustizia, l'onorevole Andrea del Mastro delle Vedove che sicuramente darà un contributo molto importante, alzerà il livello del dibattito e avremo l'opportunità di confrontarci con un esponente molto importante del governo. Insieme al sottosegretario Vandaferro stanno portando avanti un lavoro molto prezioso ma soprattutto anche oggi testimonia, anche questa presenza di oggi testimonia l'attenzione molto alta che hanno i rappresentanti del governo nazionale nei confronti della Calabria. Quindi per noi è un momento sempre molto importante per confrontarci anche su quelle che sono le problematiche che vivono nella nostra regione, anche per aumentare la sinergia rispetto al lavoro che sta portando avanti il gruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale e gli assessori che stanno in giunta, di intensificare sempre di più questa sinergia con i rappresentanti del governo e con tutti i rappresentanti di Fratelli d'Italia che abbiamo all'interno del Parlamento. Sottosegretario